Ciao amici, io sono Amelia, ma oggi per festeggiare la giornata mondiale della terra vi leggerò questo pic, la famiglia amici. Guarda che bella mela, oh che peccato, così spiaccicata, non si può più mangiarla, che spreco! No signori, niente spreco, i noccialli della mela finiranno sottoterra e lì presto germoglieranno, poi a poco a poco da piccole pianticelle diventeranno grandi alberi carichi di frutti. Hai capito? Da una sera mele a tantissime mele, la natura ci sa fare, questo sì che è riciclare! Ciao amici!